Dopo Infanzia e Città, animata dalle performance della Compagnia Colla di Virgilio Sieni e di Bustrick, l'Associazione Teatrale Pistoiese torna a mettere al centro il mondo dei bambini nell'anno di Pistoia, capitale italiana della cultura, con la nuova edizione di Piccolo Sipario, la rassegna di teatro per le scuole e il pubblico delle famiglie, promossa dal Piccolo Teatro Mauro Bolognini con il Comune di Pistoia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pesce, a Regione Toscana, Mibact e il sostegno importante di Unicop Firenze. Un cartellone di sette appuntamenti per un totale di 15 recite, in programma dal 26 novembre al 9 aprile, che ospita compagnie altamente qualificate e in parte attive non solo sul fronte del teatro per l'infanzia. Beh, quest'anno Piccolo Sipario continua ad avere grandi ambizioni, come ci piace ripetere, nel senso che il nostro teatro ha scelto di dare un'assoluta priorità all'infanzia e al pubblico dei più piccoli, con proposte di grande qualità. Quindi abbiamo iniziato l'anno con la quinta edizione di Infanzia e Città, che è questo progetto speciale che mette al centro i bambini e l'archetipo dell'infanzia. Piccolo Sipario è la nostra rassegna dedicata ai bambini sia per le scuole, quindi mattinè, sia per le famiglie la domenica pomeriggio. Il cartellone sarà arricchito da due laboratori dominicali a cura dell'associazione Orecchio Acerbo. Quale anteprima della rassegna, l'incontro storie, fiabe e leggende vanno a teatro, conversazione con istruzioni per l'uso. A cura della psicologa e psicoterapeuta infantile, Manuela Trinci, aperto a docenti e famiglie. Sì, credo che ci siano moltissime analogie tra il raccontare le storie, il giocare dei bambini e il teatro. Il teatro infantile, come dice Chiara Guidi, che l'anno scorso ci ha precipitato nel mondo di Buettino, rendendo veramente il teatro qualcosa a dimensione dei bambini. Io penso che l'importanza, noi si nasce con un istinto dell'ascoltare e del narrare storie. Pensate che delle ricerche recenti antropologiche hanno visto come il cervello dei nostri antenati fosse conformato in una maniera tale che ha rivelato la passione e l'istinto proprio del raccontare. Quindi facendo leva su questo, il raccontare le storie diventa un punto nodale nella crescita dei bambini e il teatro diventa l'incarnazione di questa possibilità di crescita per i bambini. Segnalo l'ultimo spettacolo, il diario di un brutto anatroccolo, perché la compagnia è una compagnia molto fresca, una compagnia di giovani, si chiama Factory. Il regista è un giovane regista, sono delenito, e questo diario di un brutto anatroccolo ci sarà delle sorprese proprio sul brutto anatroccolo. Loro sono molto bravi, per cui si aspetta con molta fiducia. Loro sono molto bravi, per cui si aspetta con la fiducia.